chiudiamo tutto e andiamo pronti un giretto o pelastra un giretto niente lavoro oggi ragazzi quando fare un giretto vi porto in un bel posto benvenuti ragazzi in questo nuovo video pomeridiano lunedì pomeriggio 10 10 2022 ragazzi allora sono in faccia ok siamo dotati di occhiali e giacchettino stiamo andando in un posto che comincia per g e finisce per a un bellissimo posto visto che abbiamo preso il pomeriggio libero oggi andiamo a farci un giretto guardate video fino alla fine per scoprire il posto dove andremo e per vedere se vi piacerà se l'avete già visto o se volete volete andarci un pomeriggio lo sconsiglio di domenica perché c'è sempre troppa gente meglio un pomeriggio fra settimana recuperare un caffè però perché un po di sonno si vede che un po di sonno i prototipi mi stanno assorbendo tutte le energie un trattore adesso trattori di trattori tanto per dire la nostra vita è perennemente un trattore in strada mentre andiamo ragazzi parliamo di cose tipo il meteo le 14 08 cielo è sereno c'è qualche piccola nuvoletta in cielo e ci sono 23 gradi si sta veramente bene oggi è una bellissima giornata di solito la domenica è sempre pieno di gente per cui abbiamo preferito prenderci pomeriggio settimana andando in là verso nord verso nord 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 ovest nord ovest e andiamo caffè e arriviamo caglio caglio e few moments later verso nord ovest ed è oltre a quale coro campi scutore villa in lontananza un famila campi guardrei strada direzione ancora campi tanti campi campi da passare chilometri chilometri di campi arriveremo ancora campi tanti campi intimissimi cittadini di opeano vallese qui acquistate intimo a basso prezzo calzedonia tezenis spaccio outlet link e descrizione tanti tangenziale verona appena superato all'uscita burguro ora ragazzi si fermiamo un attimo lì da notare che 3 del pomeriggio è tutto è praticamente tutto 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 il fermo intasato di macchine di roba di cose mi fermo un attimo qui caffè e prendo del materiale per i prototipi da notare che noi comunque abbiamo la corsia libera ma di la sono tutti fermi ragazzi è il delirio totale che viene giù da Trento guardate che casino noi prenderemo la terza uscita qua ma scusate ma quanto è viola questo palazzo? che roba palazzo viola ma quanto è metallico questo coso in mezzo all'ingrocio e alla piazza qua però il cielo è blu succedono cose ora stiamo affrontando una salita l'ardua salita e lo scopritore di luoghi e dopo la mille miglia dalla statale veronese quanto traffico ragazzi ora vado a pagare il parcheggio 1 euro 50 l'ora e vediamo dove siamo il parchimetro 3 euro si sono mangiati 3 euro va bene torneremo alle 17.41 entro quest'ora ma da notare che il pulsante verde non era ben riconoscibile fortuna che comunque il parcheggio è vuoto una piccola macina in esposizione tempo di olive guardate quante olive belle eh? olive nere non chiedetemi il tipo e la qualità perché non lo so scrivetelo voi nei commenti non sembra ma sembra un bosco di bambù giapponese veramente interessante una simpatica porsche parcheggiata nuvolviale molto bella cambio automatico bella bella non ha i carboceramici però carina benvenuti ragazzi ecco qua siamo arrivati all'Azzise lago di Garda è una fantastica giornata il sole è bello non è eccessivamente soleggiato ma non è neanche nuvoloso bene facciamo due passi assieme marina con le barche in legno e non barche di pescatori locali e alcune di turisti tipo quella in lontananza l'immessità e la bellezza del lago di Garda con la luce di oggi un bellissimo colore argento azzurro veramente stupendo più azzurro con la fila e il dove potete acquistare di biglietti biglietteria navigata eventualmente collegatevi al sito ovviamente ragazzi nei nostri video ci sono sempre i simpatici lavori edili esattamente lì stanno dando di flessibile ci sono i pesci pesci di lago siamo arrivati fino a qua Lazzise una bellissima passeggiata in centro di Lazzise ed ora ci spetta di diritto un buon gelatino e un caffettino magari è mancabile la ripresa di fronte al municipio di Lazzise qui buono orari qui e si entra lì bene se avete bisogno del municipio è qui ragazzi ma quanto è bella questa piazza ciao amico ciao ciao amanti del buon vino un torchio veramente antico qua vi potete togliere qualche sfizio molto interessante 2.000 anni allora ci spetta di diritto un buon gelatino attenzione gelato da caffè Batlò Lazzise bello 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 mi piace mi piace mi gusta bene bene ordiniamo ho preso fai alaska con la vaniglia il gelato alla vaniglia e poi abbiamo preso una coppa alla nutella ragazzi questo è quello alla nutella incredibile questa è la mia coppa alaska da notare caffè e gelato ma se non si è piaciuta non si è piaciuta ma da vedi qua lungo lago vittorio cava zocca mazzanti Uomo di cultura e cittadino di Lazzisi, 1860-1943, vi rimando al link di Wikipedia per la storia di questo uomo. Allora, non so se si vede nel video, ma queste che vedete sono tutte carpette regina, c'è l'acqua estremamente pulita e ci saranno 100 carpette, belle, belle, veramente, bene, non l'ho mai vista pulita così l'acqua del Garda, è un buon segno. Questi ragazzi, non so se si vede nel video, ma sono tutti dei persici, belli, guardate, persici, ce ne saranno una ventina. Elicotteri militari ragazzi, militari, prima ho visto dei jet a bassa quota ed ora questi elicotteri militari ragazzi, sopra Lazzisi. Un simpatico micetto, dove cosa fai micetto? Ciao bello, micetto. In ogni nostro video c'è un bellissimo micetto. Ecco, non disturbiamo il micetto. Questo è un vero micetto autoctono di Lazzise, vero micetto? Ciao bello. Non mi calcola di striscio ragazzi, va bene. Stiamo disturbando il micetto. Lui è un temerario. Sta facendo il bagno adesso. Un super pesce è passato. Una carpa? Bella. Se il video vi è piaciuto mettete like, stra like, mega like, super like, giga like, guarda like, Lazzisi like ragazzi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete i nostri contenuti, vi porterò in ogni luogo, in ogni bellissimo luogo naturale e non. E vi porterò tanti nuovi progetti sul canale. Bene ragazzi, da qui è tutto. Un caro saluto. Ciao belli. Ciao 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 ciao. A few moments later. Vedo. 17.41. 17.41 abbiamo acceso la macchina. No. Ciao ragazzi. Ma non è possibile. Assurdo, veramente. 23 gradi e 50 si sta benissimo. e abbiamo praticamente rispettato l'orario del biglietto. Bene, andiamo. Assurdo. E di ritorno con la luna, la luna rossa, luna piena rossa stasera. No. Succan. Succin. Succan. Ma. Succan. Succan. Succan.